Lui che tutti duellanti ben ritrovati sul canale oggi finalmente si fa il market watch in video niente più live e si fa seriamente a questo giro ovviamente come sempre siamo insieme ad elen's per discutere un po delle carte più interessanti del periodo e vedere più o meno come si sono standardizzati i prezzi ovviamente però ragazzi prima iniziare vi ricordo che questo video come tutti gli altri sono sponsorizzati da fantasia store il miglior negozio per l'acquisto di tutto quello che riguarda i trading card game fanco giochi da tavolo basta ma questo vende questo ha quindi se volete supportarmi e ovviamente risparmiare qualcosina vi ricordo che qua sotto potete trovare il mio referral link e il codice sconto cappello 5 inoltre se volete liberarvi di carte di yugi magic pokemon e one piece trovate il link del mio instagram sempre qua sotto contattatemi mandatemi le foto e se c'è qualcosa di interessante anche nei comuni se ne può parlare detto questo partiamo subito con il video bene ragazzi partiamo adesso con caos angel chi è caos angel per chiunque non lo conoscesse è uno dei singoli delle carte più interessanti dell'anno scorso questa carta fino a qualche mese fa si vendeva all'incirca sui 50 euro prezzo onesto faceva il suo tranquillissimo cosa è successo da due mesi a questa parte konami ha deciso di buttarla all'interno del nuovo ts ok questo cosa comportato ha comportato una riduzione drastica del prezzo perché da come potete vedere attualmente si vende all'incirca tra i 35 37 massimo 40 euro ma perché è avvenuto diciamo che ultimamente c'è stata una svalutazione di queste carte dico delle ultimate di questi set perché ci si è resi conto che ce ne sono infiniti in circolazione e quindi da essere carte da 100 150 euro ce le siamo ritrovate ad essere carte da 50 e ovviamente questo comporta anche la svalutazione della print originale da come potete vedere infatti la sua versione costosa ce la troviamo niente po po di meno che a 50 euro e probabilmente considerando che questo set tra virgolette è uscito all'incirca to neanche un paio di settimane fa credo e ce lo porteremo avanti per i prossimi tre mesi il prezzo di questa carta può solo che scendere ma passiamo oltre poi abbiamo spirito di yubel che è una carta che attualmente sta a 1 euro e 50 inspiegabilmente perché la gente si è svegliata ha detto oh mio dio ha fatto top a un regional facciamo buy out giochiamo anche noi questo mazzo anche se principalmente penso sia stato giocato la persona a cui piaceva proprio il fatto che yubel fosse ritornato a noi sta sull'euro e 50 e sì o no ma guarda il problema iniziale non è questo perché questa ovviamente è una carta da boh 50 centesimi 2 euro massimo problema è lui il problema vero è lui che questa era una carta da come potete vedere da 5 4 euro anche ultimamente la community di yugi si è svegliata ha detto cazzo che figata yubel fa schifo il mazzo ma è yubel e quindi da 5 euro ovviamente facciamola salire facciamola spiegare e to guadagniamo questi 17 euro per un play set di yubel diciamo che ha avuto un call down perché in un momento stava anche a 20 euro fissi sta cosa sì sì ecco questi sono i venduti di merda di gente fortunata che l'ha venduta nel momento di maggiore hype il problema è che non è da solo perché sì c'è il mostro c'è la fusione ma non vuoi hai pare anche qualsiasi versione di yubel sia vecchia che nuova ti è guarda quanto è potente phantom darkness yubel prima print non poteva che salire a prezzi senza senso manco quando è uscito stava così tanto perché in realtà quando lo trovai bestemmiavi però 25 euro è ancora un prezzo accettabile in confronto ai 40 che avevo visto mesetto e mezzo fa la print non è facile da trovare perché le super non erano garantite a pacchetto nel 2008 però 40 euro è un prezzo folle ma quello è folle vi faccio vedere una cosa questo è folle questo questa questa è follia questa è una cosa che non dovrebbe esistere ma in nessun universo capisco già la versione secret che in italiano sta sul centinaio d'euro quello lo posso accettare questa no ma non è accettabile neanche quello insieme in ragiello che in legendary collection non volevi trovarle non volevi neanche aprirgli quei pacchetti in realtà motivo per cui adesso sta a 12 euro ma guarda quel venduto a 19 68 quello fa male quello fa molto male ovviamente la carta è stata ristampata anche nell'ultimo battle of legend e ovviamente mi sembra mi sembra giusto chiedergli 6 euro mi sembra più che giusto cioè che faccio te la svendo a un euro un euro e 50 no no impossibile impossibile chiedere prezzi umani chiediamone almeno 6 poi per il preset anche i 6 50 onesti li fa bene passiamo adesso alla carta che nessuno ci credeva solo io sapevo che sarebbe risalita di prezzo absolute zero ragazzi io ve l'ho detto in live ve l'ho detto in video questa cazzo di carta era promo è secret la gente lo vuole vuole giocare retro format quindi guardate guardate questo grafico guardate guardate come sale allora attualmente da posizione italia è ancora lo stesso prezzo perché ovviamente noi sta roba non l'abbiamo mai svenduta però anche dall'estero è una carta che si sta molto allineando a quelli che sono i prezzi italiani diciamo che sono molto triste per il fatto che ne avevo comprati tipo 12 15 a 5 euro e erenz metto no ma vedi sta 4 dall'estero ma che li compri a fare godo perché avevo ragione però annullato l'acquisto e quindi l'unico contento è il venditore grazie erenz senza sottolineare il fatto che quella sarebbe stato l'unico plus visto che le altre carte l'avevi stratagate sarebbe stato non ho sentito niente non ho sentito assolutamente niente però sull'absolut zero c'ho beccato e ok va bene secondo me il gaia voi segnatevelo quello risalirà dategli un po di tempo quello risale ne ho 12 qua in una bellissima penny sleeve messi qua fermi per ora vedremo ne riparleremo quando comprerete quella carta un euro cad bene andiamo avanti oltre ai movimenti di carte belle abbiamo ride raptor forza strix e non solo in realtà e sta di nuovo risalendo ogni volta che sti uccelli del cazzo sembrano poter far qualcosa nel meta arrivano dei prezzi senza senso no no va bene aspetta aspetta ti sei sbagliato quando annunciano un supporto non quando si spera che possono fare qualcosa in meta quando esce un supporto basta sì in effetti è vero ogni volta che annunciano un ride raptor nuovo la gente inizia a fare un mio dio uccelli e uccelli bionici e si sta carta sale specialmente in inglese in italiano stavolta non è salita fortunatamente ai classici 20 euro la trovi su un comodo 13 euro e 20 12 13 euro una cifra anche abbastanza onesta essendo secret da wira però penso che anche le altre versioni siano salicchiate tipo eh contando che non è stata neanche riprintata è quello il fatto potrebbe essere un bel un dollar stonks neve no 5 euro c'è sempre stata però non esiste un play set ultra bello è ora di fare buy out di quelle super dici subito subito subizzeca guarda sta quasi di più quella super che quella ultra play set ultra sei onestissimo fanno loro faccio prima a comprarne tre singole e poi ovviamente ragazzi da come ha detto erenz e ce ne stanno a perché overprezzare una carta sola abbiamo l'anius strangolante che gay super super venduto più alto 15 euro and home rage a distanza di quattro anni riesce ancora a fare il suo anche troppo si si letteralmente una carta da 15 euro un prodotto di quattro anni fa what the fuck no ma sai una cosa il fatto è che se quando tu sbustavi un box dici vabbè l'ennesima super presa strappata tu adesso hai strappato 15 euro a carta io non ho mai comprato un box di phantom rage e mi sto piangendo vediamo 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 oh 40 euro interessante 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 vabbè ovviamente in italia le abbiamo già messe a 280 milioni perché siamo degli scalper di merda american almeno che arma zem non voglia dire qualcos'altro posto risolto andiamo avanti perfetto allora abbiamo anche far col senale la carta che tirava statua che forse ne ho ancora qualcuna però vediamo ovviamente anche questa per rara di un set di quattro anni fa uguale il problema di queste robe è che tutto il mazzo è uscito in un periodo in cui non c'erano le stampe non si sa perché oppure conami la cannate e quindi questo mazzo piccione che è tipo l'archetipo originale di flanderies è finito a costare più di un rene comprato al mercato nero what the ecco cosa vabbè alza rango magico forza salto in realtà me l'ho fatto notare io a cappello però il grafico non era 10 euro era 8 la cosa è preoccupante l'hanno aggiornato male probabilmente io ieri non avevo vista così tanto sono tre rare ragazzi se mi servono tre rare di merda sono 9 euro e 70 tre rare l'una sì sì beh in italia per fortuna stanno ancora 4 euro che non è un prezzo per una rara dash v quindi un prodotto del 2016 aspetta aspetta vediamo vi così è tanto per ride 5 maggio 2016 io mi ricordo quando ho aperto i case di sta roba costa costa troppo non me lo accollo lo sboosting di sta roba vabbè dai 150 euro siete dei cazzo di ladri non c'è la ghost non ci sono e ultimate è un set dove la roba esce anche smintata sostanzialmente perché così veramente veramente non non accetto minimamente questo prezzo dei box ma 400 euro è stato venduto ma che cazzo ci avete nel cervello o mio dio porca troia comunque ragazzi questo è solo modo per dirvi di non montare raid raptor assolutamente non ci pensate adesso capisco i nuovi supporti ma proprio no eh anzi anzi il mio consiglio è che se avete sta roba nel bulk perché probabilmente la gente ci sta ancora seduta sopra sugli scatoloni bulkatele e vendetele che è il momento migliore via non comprate sta roba ora perché il konami come sappiamo prima o poi allora set dedicato ai raid raptor tra dieci anni sicuro 100 100 ci metto la mano sul fuoco dopo domani ecco a voi tutte le ristampe raid raptor sì sono completamente d'accordo assolutamente procederà questo e piangere e piangere mi hanno ristampato raid raptor ho speso 600 milioni d'euro bene allora andiamo avanti fermi ragazzi se volete ovviamente supportare questo canale vi basta solamente mettere mi piace commentare e scrivere a voi questa cosa non cambia niente ma a me da un supporto enorme perché entro fine anno voglio fare una roba incredibile senza senso arrivare a 10k e mettere il cazzo in testa a un po' del genere detto questo se lo fate vi ringrazio se non lo fate mettiamola così ci avete un po' la madre puttana un'altra carta di 15 anni no 10 anni fa quasi prima solo movimento di un cazzo si chiama oh mio dio prezzo senza senso continua a salire di giorno in giorno perché continuano a cucinarla ogni giorno in giorno prima un momento solo è una super rara da natch e da mp15 è ristampata nelle edizioni speciali di natch come promo boh è una carta bulk è letteralmente una carta bulk fino a quando fino a un mese fa era una carta bulk non ha senso il valore 50 copie qua dentro sicuramente ti ho mandato tutte le mie il fatto quello che mi chiedo io è un mazzo che fa schifo a tutti non frega niente a nessuno 15 euro cioè non vuoi giocare melodius diva no vuoi giocare non voglio assolutamente giocare melodius diva invece tu vuoi giocarlo e tu spenderai 45 euro per il playset della carta chiave ok e se sei in america spendirai 100 dollari per le versioni star folly quelle merde ma allora ci sta la carta è forte perché comunque evoca la carta melodius da mano o mazzo a caso a casissimo però dai sai cos'è che ha ipato secondo me il video promozionale di konami sì possibile possibilissimo ci può stare non vedo perché anche quello non possa aver fatto il suo effettivamente hanno capito hanno capito sì sì ma le persone hanno capito no ma quindi le melodius sono femmine e sono delle tope incredibile le voglio subito montiamo subito bordo io ero convinto fosse risolve accorto ah erano unite tutte quante melodius risolve accorto non ne ho la più pallida idea probabilmente ho cannato eh ragazzi mi prendo la responsabilità di quello che sto dicendo potete insultarmi non è vero non potete insultarmi sennò vi banno tutti però nel senso c'è la possibilità che io possa aver cannato allora andiamo avanti dai erens spiegaci perché questa carta costa 6 ok nm 7 8 10 allora Iron Chain Dragon cosa dovevo spiegare avete mai giocato a Yu-Gi-Oh! no non ne credo ultimamente ok evidentemente no allora monoprint non esiste short print rara di Crossroad of Chaos beh il sincron migliore livello 6 di tipo drago ah no già giusto Brionac non è un cazzo di drago si gioca in Edison si gioca in Edison si gioca in Edison si gioca in 2008 gioca nei formati belli post Edison e pre Edison è forte ma mille 3 all'avversario a meno che non giochi un mazzo tipo Light Sworn tu vinci beh mi piace questa spiegazione non ci ho capito niente però andiamo avanti allora qualcuno ha mai sentito parlare di bestie sacre quelle che tipo sono i corrispettivi di Uria no si di Uria di Slifer, Obelisco e Ra che tuberanza ha palesemente accorpato in una cosa sola bene questa carta e un'altra che è palesemente la terreno che uscivano da due set ovvero i teen e lo structure sono sali... no 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 e che cazzo sono ricco sono fottutamente ricco no 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 questa è una cosa in live del video raga non stiamo overreactando a caso non l'avevamo visto no noi la nostra idea era vabbè ultra sta a 5 euro comune sarà a un euro vado a tirare via le carte dal bulk ce l'ho ce l'ho devo andare alla mia madre io quel bulk non l'ho mai tirato fuori devi sbrigarti a tirare fuori quella roba perché sono soldi gratis ragazzi io ti ho mandato a te la versione inglese ce l'hai nel bulk che ti ho mandato tempo fa diamo inglese quanto sta raga in questo momento ho tirato veramente fuori un tubo di bulk perché sono sicuro di averle 6 euro posto non ha un senso logico allora capisco i supporti capisco che sia una carta che oramai c'ha due anni due tre no mp 21 ce n'ha 3 4 3 4 però dai cioè c'è stanno gli structure ancora in circolazione a 15 euro anche un po' meno però vabbè grazie ragazzi da averci fatto fai soldi eh siamo molto contenti allora andiamo allora a questo punto controlliamo la common pure vabbè costa uguale no se non di più della ultra poi c'è sussicru che ovviamente al solito mette primo prezzo 20 per dai allora andiamo avanti erens ha una sua teoria su questa io non so assolutamente se si giochi o meno però dai pigacela secondo te perché questa carta di merda da un euro allora principalmente il grafico parla anche di più perché il grafico vede le vendite a 4 euro io so che c'è una ristampa rara o comune di questa cosa se non erro si no rara da basm e ovviamente rara da basm e anche starlight ah questa come minimo sale al 100 euro no questa sta vabbè 60 che è comunque troppo per una carta di merda non so se ripeto non so se gioca nemmeno io però la mia teoria è raga la fregna max salary ti piace a tutti no e allora perché non fare costare la fregna max salary ti beh quello è il punto allora io non sono d'accordo perché secondo me questo non è pokemon quindi non puoi tipo unire tutto però boh famo ci andrà bene cioè yugi funziona solo sul competitivo c'è deve essere una motivazione più importante del tipo si è giocato in mazzo x da una persona e ha fatto mezzo risultato probabilmente è andata così è molto probabilmente io non ne sono a conoscenza ma per me rimane valida la mia teoria ovvero fregna max salary ti va bene ok oltra rarity rarity bella chip andiamo avanti abbiamo cross out ragazzi cross out parte che stava boh a 13 è arrivata a 18 è ok ma tutte e due le versioni che sia da team nuovo o da team vecchio però io erenz abbiamo una teoria secondo noi considerando che il fatto che sia una staple e sia una roba che si gioca questa sarà all'interno della rarity perché non avrebbe senso non metterla e comunque è una carta che non ha una ristampa da due anni mettiamola così sì esatto secondo me è la cosa più sensata quanto appunto è forte rarity collection ci dovrebbe dare delle gioie e non solo disgrazie e penso che per tutti sia una cosa decente non dover pagare sempre 20 euro per reper di roba anche se per 7 lì per per american ci sta primo prezzo anche con l'american poteva chiedere di più poteva chiedere 18 non vuole vendere non vuole essere uno scalper anche questo è vero andiamo con la prossima che questa tu sei molto contento io anche perché ne ho piazzato un paio e a cifra anche relativamente alte drago tridente carta cioè allora è maestoso si giocava in hopeless dragon si giocava nei mazzi drago per gli attuali retro format ma io lo giocavo in mazzo drago quando era uscito è salita a 40 35 40 euro la versione ultra rara perché tenpai il prossimo mazzo drago e uscirà a breve credo è una cosa senza senso tu evochi sto coso sto bestione a tre teste spacchi la terreno e boh quanto è che guadagna sto coso guadagna attacco attacca tre volte non mi ricordo manco più che cazzo fa raddoppia l'attacco per la terreno aspetta tu spacchi la terreno raddoppia l'attacco e questo quante volte può attaccare? se non ricordo male tre volte se non si chiamava drago tridente esatto una per ogni carta spaccata è una cosa rotta fai 12k danni ultra rara ripeto costate 40 euro dai vabbè 5 qui stava tipo vabbè guarda che bello il 9 di febbraio il 9 di febbraio si a gennaio dicembre gennaio costava ancora di meno ma la cosa più bella sono stati quei 50 euro buttati per la ultimate buttati poi abbiamo la secret che io denigro perché lc5d se non è american è imbarcato e non ha senso sta roba stava a 8 euro guarda no prezzo più basso 8 però sui 20 diciamo era il prezzo suo ha raddoppiato solo il suo valore e ovviamente abbiamo lui la versione ultimate che è solo a salire quella copia american a 100 euro è da far sparire dal market e in america sta già a 200 dollari è la prima print in prima edizione non esiste non esiste e non esiste tu vuoi giocare il mazzo sei un pro player tu vuoi il drago tridente ultimate non vuoi altrarietà e fortunatamente si gioca in monocopia perché sennò non cazzi per tutti si mamma mia guarda che bello guarda guarda che fortunato questo il 6 di gennaio probabilmente forse era il mio playhead venduto a 20 euro è un po' stai rosicando ammetti un pochino sì perché sì era in prima in italiano era sia lp lp good in realtà quindi andiamo avanti abbiamo oh oh altra carta comune altra carta da soldi ovviamente sì ragazzi no è scesa ah no non è vero non esiste un playset scusate scusate no 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 forse da mp20 troviamo un playset no neanche possibile trovare un playset umano poi siamo sempre noi ovviamente eh a fare prezzi alti eh venduto più alto o due? ah sì sì è un da quello che ho capito è una carta che permette di fare synchro spam credo non lo so eh coniglio con le ali gosbr sì sì synchro spam confermo bene carta del 2020 ci sono passati 4 anni ovviamente carta mezza umana quindi per forza 4 euro andiamo avanti in tutto quel bulk che ti ho inviato negli anni tu hai questa roba là dentro perché ho comprato box di kim e anche del 2020 mi sono comprato ben ho un case sicuro ma forse ne ho presi anche due tocca controllare devo assumere una persona che mi dia una mano andiamo avanti allora bene adesso andiamo su tre carte specifiche ovvero Void Imagination Rivelatore della Barriera di Ghiaccio e Ulti Cannawok cosa hanno in comune queste tre carte? otterranno tutte e tre supporti all'interno del nuovo Battle of Legend come lo sappiamo perché Battle of Legend vabbè quello che uscirà a giugno è palesemente la copia del set Dual Terminal che è uscito in Giappone un mesetto fa ovviamente ci saranno le alternative art di queste carte non so se di tutti vabbè però comunque ci saranno delle alternative art delle ristampe e ovviamente carte nuove e quindi che fai? non lucri su questa cosa? Void Imagination non la fai pagare? 9 euro? ovviamente sì anche se ragazzi è core le super sono piene di silvering dato che non piace mai a nessuno non esiste NM non è silvering reggiero ragazzi è stampato di merda ecco questa è l'alternative art comunque ragazzi molto carina molto carina devo ammetterlo questa roba raga probabilmente verrà ristampata nel Battle of Legends se ce l'avete vendetela vendetela e vendetela non ha senso almeno che non giocate Infernoide adesso che reputo una cosa abbastanza strana vendetela vendetela e prendetevi l'alternative sapete che secondo me questa non verrà ristampata e quindi non calerà di prezzo mi dispiace qui ti vado totalmente contro forse un po' perché comunque è un altro artwork cioè che senso ha salutare qualcosa che è palesemente un'altra carta anche se ha lo stesso effetto guarda il punto è questa carta non viene ristampata dal 2015 non ha mai avuto ristampe non mi pare neanche che esiste una versione MP quindi questa carta viene ristampata appunto dipende cosa vuole fare con Ami non è scontato era come le carte da Battle of Legends vecchie teoricamente dovevano essere tutte in Battle of Legends capitolo 1 non c'erano no non erano tutte erano le migliori più che carte addizionali il Battle of Legends Chapter 1 a differenza del Battle of Legends effettivo è il riassembramento tipo i leggendari 2 i listi i leggendari dragons la collection questo che uscirà in un Battle of Legends regular sarà ristampata al 100% io non lo so mi ci gioco il tappetino di Yubel che mi devi regalare non ti devo regalare un tappetino di Yubel cioè sorpresa adesso lo sai ok andiamo avanti abbiamo il rivelatore questa secondo me non ci sarà questa sarà la carta barriera di ghiaccio da soldi perché usciva all'interno dello structure deck e quindi non ce la metteranno me la gioco così ovviamente ragazzi era una carta da 2 centesimi che è arrivata a 1 euro nel senso parliamone non stiamo parlando dei 60 euro a copia però diciamo che comunque rispetto a prima è sicuramente salito questa cosa ulticanavoc ragazzi ulticanavoc non ho regalato una matek che fa male beh dai mi hai regalato 2 euro e 50 3, 4 no vabbè diciamo che se avessi il mio bel playset sarebbero 4 euro l'una sì sì effettivamente sì sto un po' rosicando vabbè andiamo avanti abbiamo un archetipo che a te piace tanto allora qui sì c'è una carta che mi piace molto ovvero lo tigre da laboratorio gradatore bestia è uno dei mazzi più belli anche se in Edison è abbastanza scagato però immagino che piano piano si amplirà la mentalità e si giocheranno anche altri formati soprattutto non quelli che durano una settimana carta vecchia reprint common fa schifo reprint secret da lcgx mi pare costicchia anche quella best tiger carta chiave RGB la versione alti oh esiste anche gold me ne ero dimenticato ecco appunto dicevo sta roba sta 15 euro secret secondo me la ultra dovrebbe stare come ai vecchi tempi sulla ventina di euro perché era short print cioè si parla di un periodo dove non trovabile le ultra e la versione ultimate sta schizzando senza senso perché ovviamente se vuoi fare il max rarity GB del mazzo più bello dell'antimeta bello mai creato perché GB è nato come antimeta ha distrutto il formato 2008 lo Y ultimate fine beh per test tiger c'è solo quello la Y ultimate la tigre la prendi ultimate ma sai cos'è secondo me è perché la gente sta iniziando a buttarsi all'interno di questo mazzo cioè io sto vedendo retiari stanno sparendo quell'altro che è venuto ultimamente come si chiama Darius Darius stessa cosa secret sta sui 20 euro e Murmillo stessa cosa non si trova a parte che sono carte con pochissime print vecchissime quindi ci sta che piano piano soprattutto adesso che i retroformat stanno prendendo piede che ovviamente queste carte salgano forse non subito spera che i retroformat prendano piede davvero non due però ok tanto tu vuoi giocare Tengu ho capito non è inutile che ti nascondi dietro parolini tipo Edison fa schifo eh vabbè andiamo avanti abbiamo ovviamente un'altra carta GB che questa non abbiamo capito effettivamente perché sta leggermente salendo allora io penso sia semplicemente l'ignoranza del tempo e cioè del vecchio tempo dove questa carta non veniva giocata qualcuno la usava come tech ora non so neanche l'effetto di gran cazzi è forte è una carta abbastanza carina non la sostituirei altre perdite stiger però come monocopia tech ci sta c'è sicuramente chi la sta testando perché sta salendo dallo zero che sempre valsa ai 50 cent un euro l'ho vista anche a un euro questo è volentieri 50 centesimi venduto più alto non ho altre spiegazioni per questa roba non lo so neanch'io è la scimmia editor b-type mettiamola così ok e concludiamo ragazzi con quattro carte che ovviamente sono del meta attuale che pregano poco a niente a noi però a voi si interessano un pochino di più abbiamo wanted che dopo le ultime carte bonfire e tutto il resto sta palesemente crollando perché ovviamente ragazzi un mazzo non può stare sui 700 euro a un certo punto la bolla esplode e le carte si abbassano non si può fare il gioco di mercato vecchio ovvero tipo è secret non si trova si trovano due secret a box e no non sono short print si sono al sprint ma sta roba quando è uscita non da quel che ho capito non era neanche giocata più di tanto no no allora all'inizio quando è uscita quest'anno si giocava però era una carta da 50 euro poi è l'hype che l'ha fatta arriva a 100 ragazzi non è mi ricordo mi ricordo allora io vorrei dire una cosa ragazzi sp che si gioca in monocopia la spamma ogni mazzo sul pianeta che sia meta o non ci sta che costi 100 euro no wanted che la gioca a due mazzi e solo perché il formato è completamente fuoco te la devo pagare così tanto stessa cosa la carta che vedremo dopo ragazzi bonfire è rota per i pyro nel senso è rota non può costare 70 costava 80 prima è scesa un pochino non può questa l'unico suo vantaggio è che esce da un set del cazzo maze of millennial se non da un set ufficiale se no questa non quest'anno ma l'anno successivo stava all'interno di tin quindi ok se siete contenti voi a spendere ma starà all'interno dei tin non di quest'anno di quest'anno no no è uscito quest'anno a millennia si è uscito a gennaio allora no allora no mi dispiace però questa si becca una reprint 100 su 100 quest'anno si becca una reprint non dai tin ma da qualche altra parte perché già in giappone l'hanno reprintata è una carta da archetipo sostanzialmente non neanche archetipo perché effettivamente non è per gli archetipi è una carta con un target nel senso non è generica non la faranno rimanere così tanto a lungo sulla cresta dell'onda è questo a parte tutto questa appena il formato cambia e che non ci saranno più i mazzi pyro nel meta cala automaticamente cioè questa è una carta che rollerà sui 40 euro appena cambierà il meta non dico adesso in più diciamo se i mazzi pyro rimangono o verso settembre comunque visto che sarà una delle poche carte non reprintate se in questo periodo scende salirà di nuovo un pochino perché comunque se volerete giocare quel mazzo oltre alle ristampe dovete per forza prendere una carta che ristampa non ce l'ha avuta come è successo per tantissime carte uscite nel corso degli anni basta vedere la carta labirint o kit all'epoca cioè anche la magia flander tutta roba che era crollata poi risalita onorable mention diciamo water hype controllate le carte mermail piccola hint potremmo parlarne in futuro ma io inizierò a darci un'occhiata sì e dopo questo video vedremo abyslinde a 120 euro passando adesso alle ultime due carte che sono sempre meta effettivamente non ci spieghiamo il motivo abbiamo grangugnol che boh è salito a 18 euro e albion che anche questo è salito sui 20 euro il perché non lo sappiamo probabilmente c'è stata qualche top o cazzi del genere non ce ne frega niente e basta tutto qua sì brand ed è forte mi è sempre piaciuto avevo comprato le chimere guardiane a 15 euro è venduta a me io l'ho venduta un po' di più poi è salita ancora e vabbè sono cose che succedono e va bene ragazzi il video finisce qua spero come sempre vi sia piaciuto e fatemi sapere qua sotto con un commento ovviamente quale altre cartine controllare la prossima volta e se effettivamente sapevate che queste carte hanno salite o scese detto questo ragazzi ovviamente statemi nisi e noi ci rivediamo domani sempre qua con un nuovo video ciao a tutti